Terremoto e maltempo del 2017 in provincia di Teramo non sono un lontano ricordo. Questo perché il processo di ricostruzione è tarda a decollare e tante aziende, soprattutto nelle aree interne, stanno gettando la spugna. Non è così però per Teresa Piccioni, che a Pietralta di Valle Castellana difende il suo allevamento di capri continuando a lavorare fra mille difficoltà. C'è anche la sua azienda, fra quelle individuate da Enel e Legambiente, che hanno lanciato una campagna di raccolta fondi denominata Leva la Speranza, progetto di crowdfunding che scade il 31 di marzo. Stiamo supportando l'allevatrice Teresa Piccioni, che vive a Pietralta, Valle Castellana, in una zona altamente disagiata e colpita presentemente sia dal sisma del 2016 che dalle susseguenti nevicate. Abbiamo visitato l'azienda e chiediamo a tutti quanti gli abruzzesi di mettersi una mano sul cuore e se è possibile aiutare entro il 31 marzo Teresa Piccioni e la sua azienda di Ovi Caprini che è in una situazione di forte disagio soprattutto per quanto riguarda le stalle che sono state ricostruite dalla protezione civile ma attualmente le necessiterebbe di una struttura fissa. E poi avrebbe bisogno di alcuni strumenti come una mungitrice mobile, una trinciatrice per il mangime e un silos per lo stoccaggio. Attualmente fanno tutto il lavoro loro come famiglia, le altre figlie, un suocero anziano, il marito che praticamente fanno un lavoro in mane, hanno più di 400 capi di capre di razza abruzzese, terramana, che soffrono il freddo, l'umidità, la neve e chiaramente necessitano di un aiuto concreto. Qui stiamo parlando di soldi che possono essere versati su questo sito che si chiama planb.bz. Se andate sul sito troverete una campagna di co-founding che è stata fatta partire a gennaio e si propone di raggiungere la quota di 29.200 euro per aiutare Teresa Piccioni a acquistare queste tre attrezzature.